Ora siamo stati a visitare il Santo Padre, dal ritorno che noi faremo un bel regalo di Ponte di Dio. Il Santo Padre, dal ritorno che noi faremo un bel regalo di Ponte di Dio. Il Santo Padre, dal ritorno che noi faremo un bel regalo di Ponte di Dio. Il Santo Padre, dal ritorno che noi faremo un bel regalo di Ponte di Dio. Il Santo Padre, dal ritorno che noi faremo un bel regalo di Ponte di Dio. Il Santo Padre, dal ritorno che noi faremo un bel regalo di Ponte di Dio. Il Santo Padre, dal ritorno che noi faremo un bel regalo di Ponte di Dio. Il Santo Padre, dal ritorno che noi faremo un bel regalo di Ponte di Dio. Grazie. Grazie.